Per attivare la Oli e Benji mode basta modificare le statistiche nelle impostazioni di gioco Signori Oli e Benji mode on su FIFA 23 come ai vecchi tempi a me il Liverpool e io rimango sul mio classico Real Madrid Si si pad Daniele Adani in telecronaca Hanno problemi audio credo. Non lo sopporto Adani quindi telecronaca mutata Perché è così forte il fischietto? E' no perchè viene dal pad Ah ho sentito la tv al volo di... PS5 il fischio esce dal pad Si comincia Comi che arrivo Ah si è andato al fuorigioco Eh vabbè l'arbitro è molto permissivo anche I tasti non mi ha preso i tasti Guarda non c'è i suoi miei tasti Che palle sto gioco Abbiamo impostato i 5 secondi fa e mi ha risettati startando la partita Non ha senso, sai perchè mi incazzo? Perchè succede sempre anche sul team e team Vabbè un ottimo cross da parte tu è stato il primo Spacca con la porta Niente da fare Ha senso guarda Dove sta correndo quello sul cartone di pubblicità Stava correndo Non l'ho visto Va bene Cosa cosa ha fischiato? Hai messo i falli di mano vuoi vedere? Ma si ho messo i falli di mano per rendere più spicy il gioco Ma I falli di mano non li ho visti Eccoci Oh cazzo No Alison Ho sberato tasto? No ho sberato tasto Cosa cazzo? Che cazzo? Sporco Ahahahah È partito un misto È driven Se prendevi qualcuno li staccavi da testa Oh non sei fuori gioco giusto? Io paro Non è impossibile Ha preso anche questa Ah bestemmia come me È proprio il mio personaggio Il tuo uomo Oh Oh Funziona lo schema Due fps ci sono visti No la palla che viene trasportata tra i piedi e nella porta In porta Ho visto quando è partita E quando è arrivata Nel mezzo Boh Ho premuto i tasti Ahahah Ma che ho preso? È fermo È fermo Immobile Ho manco visto la palla Carval È messo così Dov'è? Oh no il kick of glitch È il kick of glitch Eh più avanti devo andare No Questi passaggi sbagliati mi triggerano Eh sì eh Dicevamo Non fare i filtranti in questo gioco di merda Come no? Guarda qua Sono in porta Porco Giuda Dai 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 Salà Salà di testa Ma uscio questo tiro? Non so perché La pillolina Allora ho capito lo schema Non c'è il fuorigioco Solo filtranti arti Dal portiere proprio A me non funzionano Ma come fai a dire ai tuoi giocatori di stare tutti davanti Che ho più che ho il troppo offensivo È il Liverpool Così la squadra Ahahah Chi è questo? Bondoic Apertura bellissima perché non c'è il fuorigioco Mettila in mezzo Spaccati da parte Bravissimo Ah no dei magneti che li tirano indietro ogni tanto questi giocatori devo dire Si chiama script Bene E rifacciamo lo schema Vabbè sei un bastardo No Vai fila la palla Tira Vabbè è curto Ma è rimasto impassibile Magnetico Eh l'hai visto L'hai visto Ma no Ma no perché tu arrivi dal fuorigioco Non esiste il fuorigioco Stai su Non esiste Guarda guarda come lo brucia Come lo brucia Come lo brucia Non può entrare questo mai Ahahahahahahahah Ahahahahahahahah Ahahahahahahah Cosa ha avuto il tuo portiere una sincoma Non ero neancheto di uscire Ahahahahah Ahahahahah Ma non lo riveliare Ha avuto un mancamento Ahahahahah abbiamo diminuito la potenza dei portieri Si, si nota per la prima volta. Tiro a giro e niente ha avuto un cavo di pressione Kamer puoi togliere l'ulta difensiva per piacere? Ma non c'è l'ulta difensiva. Metti ultrò offensiva come me Allunghiamo queste squadre facciamo fare il bel gioco e questa è una presa era un missile terra aria N'altro poi ci dichiarava guarda pure l'Uga Russia Oh Virgilio impassibile Van Dijk, un muro Non avrà più dei figli ma a lui non importa voleva fare la vasectomia Dove si tirare anche, non vorrei dire. Io voglio costruire bene, fare il bel gioco Noi si tranti anni come c'è, guarda qua. Guarda che a Dalin ho già attivato Cioè, vuoi fare la stessa fine? Mano, si 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 e qua e qua si fa così tutti i tasti Me l'hai segnato tu, no, no, porcuccio Ho insegnato a perdere palla, ho insegnato. No, tu mi hai insegnato che con i tre giocatori lì non sai chi batte La passi e fai subito tiro, ma tu lo sapevi, me l'hai messo nel giocatore e sei uno stronzo. Non ho premuto nulla Ho facciato il mio Si va bene, bravo. Ma che si abbassa? No, dove cazzo va Alison? Non importa, tanto ne ho falciato uno Dai, ma Virgil è un muro Virgil, Virgin Virgil van Dijk Dopo la pallonata alle palle è Virgil van Dijk Virgilia Fallo Si 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 arbitro, ti giuro non lo faccio più Arbitro un po' permissivo, niente cartellino 15 morti in campo Ma no, ridammela No Spara la lunga Spara la lunga Scappano dalla palla E pigliere sto gol Distrutto tutto Distrutto tutto Porta scardinata Da 10 centimetri Massima potenza di tiro Se non succedeva questo io uscivo dalla stanza Bene Parte salà Bicicletta Bicicletta è quella che non può più usare dopo questo intervento Te lo dico io Alexander Arnold con time finishing Verde, bravo Che bomba Stai finishing detto cazzo Io non ce l'ho perchè non so usarlo ragazzi Vai ci siamo Portiere Ti prego Sotto le gambe Sotto le gambe? Non l'ho ben visto Che brava Vieni da piangere Non si intendono Bella Bella No al portiere non può uscire così Guarda lo sto dicendo anch'io non si può uscire così Nooo Perchè una ciofeca del genere Stavo per dire non c'è fuori gioco sto rimesso a laterale Ma in questa patina non c'è fuori gioco Non c'è fuori gioco Cos'è il ragione? Che è successo? Palo di mano No Annaggia Lo sai Già lo sai socio No Vabbè Adi sono rimasto un po' traumatizzato a terra Ha paura per la sua vita Perchè il mio joystick vibra? Io non ho mai messo la vibrazione in un joystick tutta la vita Ehhh perchè il joypad vibra Giovanni? Cosa ci fai la notte con quel joypad? Ma ma Hai visto Shomeny con quale? Lonsha danse Hai detto alzo una gamba Alzo la seconda Era un passo di danza Vai Alison Mandali in porta a questi ragazzini Ma ma Cosa ha fischiato? Ho fatto mano Che idea di merda quella di me di fare di mano No 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 perchè ho fatto il coccodrillo Non volevo fare il coccodrillo Metti quello davanti Dov'è? Come corri? No ho preso ho preso il mio giocatore Ho fu un counterato Ma visto santo E' giù uno E' giù uno Pallo bene questo passaggio Pallo a scorrere Hazard Sul 3 a 4 Si può ancora Si può ancora dare i supplementari Tempo di fare un altro gol eh qui Alexander Mettila in mezzo Tira questa mina Mamma mia Vabbè ma curva il legale Sono tutti avanti Sono tutti avanti Buttala Devo fare come te col passaggio Ma è svenuto il mio? Che lo dici Perchè i miei grilletti stanno cominciando a diventare dubbi camera Hai visto il joypad? L'avevo disattivato prima Ma è come effettivamente Oh che sprint boost di Salah Vabbè Trovare energie Non si sa dove All'81esimo Io ho i grilletti che mi vengono i tunnel carapalli per premerli Perchè non si è disattivato quella impostazione di merda che non serve a niente Eh il joypad è adattivo Si wow che bello Per sentire la stanchezza dei giocatori nelle tue mani Grande invenzione Che fa Salah? Con chi sta parlando? Può demennare il fotografo che non gli va bene Bello il pressing di Salah On fire La gente non sale Oh Invece a salire tutti Tutti per terra Io sto facendo un campo di gente No E così funziona Ma come funziona? Ho più aria coperta sul terreno No Mi hai riportato la palla su Fabigno Non può non entrare E non può non entrare Sempre sotto di uno Sempre in salita questa parità Ma abbiamo trovato la quadra Palleggia Palleggia E vai in porta Oh la presa La presa Adesso c'è la morale Non ne parla tutte Cristo santo Ma il portiere ha fatto una parata Scusa Io ho le occasioni In cui da davanti alla porta Non si può sbagliare E tu invece fai cazzate Oh E finì la palla Cagli per spazio Torna giù Allora Dal mio calcolo E dell'acceleratore di gravità La palla era alta 87 metri Quello in palla E si va sul pareggio Oh no Corri bastardo Oh beh Se vai fuori Capisco perché Spaccate i joystick Quattro minuti di recupero Tutto il tempo del mondo abbiamo Anche perché in un secondo e mezzo Stiamo in fondo campo Volendo Oh 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 Virgil Fu l'automatico Si passava Non è lui Ma no Stava trovandolo al fuorigioco Che non esiste il fuorigioco Guarda che sono 90 minuti Quei giocatori lo fanno Superlegali Anche quando la legge si può infrangere No No Diocco Bello No 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 Con il time finishing Esulta Luis Diaz Sa che questo gol vale la partita Shake a tutto Ma vale Un bal di mare ragazzi Fermate lo shaking Date un antiepilettico al cameraman Per favore che c'è qualcosa che non va Possiamo ancora non vincere Però farne uno Eh niente Questo qui è l'arbitro dei vilanisti Eh lo dico lo dico Ragazzi spero che il video vi sia piaciuto Fatti sapere se volete altri video su FIFA 23 Magari con altre modalità E niente ci vediamo alla prossima Ciao